Grazie, buon pomeriggio a tutti da casa perché è arrivato il momento di vedere il video in cui il Presidente della Repubblica, Mattarella, parla della nostra trasmissione e parla anche di altro. In attesa che la regia ci mandi il video, almeno il primo video, il primo spezzone, abbiamo con noi di nuovo il professor Tacito Silente, un professore praticamente di tutologia, che oggi ci spiegherà un pochino il concetto filosofico trascendenza e immanenza, un po' la differenza tra questi due termini, ecco il significato intrinseco, oserei dire, che poi fu già di Giordano Bruno, che lei naturalmente conosce benissimo, professore. Intanto la ringrazio di avermi ascoltato. Scusi, 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 mi dicono che è pronto, è pronto e c'è il Presidente della Repubblica. Vediamo il primo spezzone del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un saluto carissimo a voi che state assistendo a questa trasmissione. Finalmente è, a questo varietà televisivo di successo, ripeto, successo, che anch'io seguo tutte le domeniche con grande soddisfazione e curiosità. Ma quello che preferisco di questa trasmissione è il titolo. Finalmente è, perché è senza esse. Bene, bene, grazie Presidente. Ha seguito? Ho seguito benissimo, ecco, anche il nostro Presidente, insomma. Sì, ma veniamo appunto alla domanda che le ho fatto prima. Allora, trascendenza e immanenza. Ecco, qual è la sottile differenza tra... Ecco, stavo dicendo allora, dottor Marconi, la trascendenza, ecco, quella cosa che... Un attimo, scusi, mi dicono è già pronto il secondo, il secondo spezzone. Vediamo subito, perché è una cosa molto importante, qui parlerà della Costituzione. Certo, certo, la precedenza e il Presidente... Io ammiro tantissimo il nostro Presidente della Repubblica, proprio per come ha difeso in questi anni la Costituzione. Sentiamo cosa ci dice. Ho giurato di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. L'ho sempre sostenuta attraverso i Suoi comandamenti. Non avrai altra Costituzione all'infuori di me. Ricordati di santificare la Costituzione. Onora i padri costituenti. Chi tocca la Costituzione muore. Parola del Signore. Lode a te, oh Costituzione. Ma che belle parole da parte del nostro Presidente. Certo, il Presidente. Certo, certo. Allora, la domanda, ripeto la domanda per chi si fosse posto solo ora in visione e in ascolto. Concetto filosofico, trascendenza e immanenza. Professor Tacito Silente. Grazie di nuovo, Dottor Marconi, che lei mi sta concedendo l'opportunità di spiegare meglio la trascendenza. Ecco, adesso io non vorrei che... No, guardi, guardi, mi dicono che è già pronto il terzo brano, il terzo video, per cui... E tra l'altro molto importante perché parlerà di un personaggio anche a noi particolarmente caro. Sentiamo ancora il nostro Presidente. Tant'altro sì che c'è il Presidente. In conclusione, cari italiane e cari italiani, vorrei estendere tutta la mia solidarietà al Presidente di questo gruppo televisivo, Gianfranco Sissione. Ripeto, Sissione, perché so quanto è difficile essere una guida per un insieme di persone, così come per un paese come il nostro. Viva l'Italia! Viva Lazio... Lazio... Gold TV! E' bene, è il Presidente della Repubblica. E' un grande il nostro Presidente. Va bene, abbiamo oggi anche ascoltato l'opinione del nostro professore, ospite da noi, Tacito Silente. Tacito Silente, sì a Tacito Silente fino in fondo. Lo ringraziamo per essere intervenuto nella nostra trasmissione e passo la parola di nuovo a Paolo.